ciao ragazzi ciao di nuovo allora cominciamo a fissare il foglio oggi ci facciamo uno bello stargate allora fissiamo il foglio con il tempo sotto e cominciamo allora un pappetto mettiamo un poco di bianco qui un pochetto qua qui mettiamo un po' di rosso leggermente così ecco fatto con questo e con questo qua allora primo tappino lo facciamo con questo pianetino qua è troppo grande ragazzi ci mettiamo questo ecco fatto qui ci mettiamo questo e qui ci mettiamo questo allora questo è abbastanza semplice come vedete tre pianeti così in diagonale per tirarci in diagonale qua e poi in diagonale qua così e così a questo punto rientriamo con il nero tutto il foglio quasi tutto il foglio facendo rimanere un po' con il centro così scoperto in modo che qui ci mettiamo ci faremo vediamo un po' con il nostro cool un po' con il nostro allora qui qua ci facciamo ritoriamo su questo questo così lavoriamo più comodamente e questo qui questo lo conviviamo in questa maniera semplice facciamo una diagonale in questo modo qua che facciamo un po' con il nostro che facciamo un po' con il nostro da una parte e dall'altra che facciamo un po' con il nostro che facciamo un po' con il nostro che facciamo un po' con il nostro è abbastanza semplice come uno stargate così ciao ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao